Ecco qua, la nonna stai chiamando zia? Prima si stacca fino. Vai la nonna, vai, chiamando zia. Stai chiamando? Sì. Prima si risponde, sì. Stai chiamando zia o no? Zia o no? Sì, stai chiamando, fai c'è una ronda, la nonna stai chiamando. Sì, stai chiamando, fai c'è una ronda, la nonna stai chiamando. Perché se ne chiami di una e me la rimangiamo? Eh no, risponde sì. Eh non so, ci sono. Come non so? Stai chiamando a telefono, non si risponde. Forse pure che non ci sto. Forse pure che non ci sto? Ah, l'ho mangiata da sei Luisa, da sei lì però. Eh, può essere pure. Oh, ti sto cagnando i calori, perché ti sto continuando. Se le sposa già non ci sta. Se le sposa già non ci sta. La nonna stai chiamando zia Anna. La nonna in bianca in bianca. Non c'è zia Anna. La nonna è calore normale, la nonna non c'è bianca, non c'è zia Anna. Marrone. Marrone. Ah no. Non risponde zia Anna. Ah, zia Anna non risponde. La nonna stai chiamando zia Anna. Zia Anna non risponde. Zia Anna non risponde. Tanti saluti dalla nonna. Allora. Allora.